Con molta emozione ho letto questa lettera e devo dire che ha trovato come sempre delle parole importanti per noi. Non vedo l'ora di leggerle ai miei giocatori perché ha parlato di un affiatamento tra vecchio e nuovo, di un'idea vincente, di uno spirito di squadra, di una determinazione, di una genosità. È un po' quello che vorrebbe trasmettere lui e che lo sta trasmettendo alla nazione. Quindi siamo veramente orgogliosi, emozionati e speriamo di essere all'altezza. Sinceramente mentre leggevo provavo una forte emozione e la sentivo, come abbiamo sentito la sua presenza, come abbiamo sentito la sua vicinanza, come abbiamo sentito la prima volta che è venuto a vedere la nazionale proprio con la Spagna. Quindi un atto di grandissima fiducia nei nostri confronti, quando in quel momento magari non tutti avevano una grande fiducia in questa squadra. Ho provato solo emozione pura, non ho fatto nessun tipo di considerazioni.